Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un video in cui vi parlerò di un glitch dei soldi ragazzi Non è che vi parlerò del glitch dei soldi Vi spiego questo glitch dei soldi visto che tanti dicono che è stato bacciato Che c'è l'after patch, che c'è l'anima di mortacci Loro invece non c'è un cazzo ragazzi Lo fanno solo per tirare fuori video e altre cazzate varie Allora questa è l'ora in cui sto facendo il glitch Quindi sono le 14 e qualcosa Quindi passiamo al glitch Per fare questo glitch ragazzi serve un amico che sia nella vostra sessione E che sia in un lavoro da titano In più servono delle LGRH8 nell'arena Come vedete qui a me ancora non ci sono Perché le ho ordinate e stanno arrivando Come avete appena visto in basso a sinistra E quando abbiamo tutto ciò E abbiamo ovviamente l'officina dell'arena Che deve avere ragazzi il meccanico bennis Perché se non è il meccanico bennis Non potrete fare questo glitch mi raccomando Quindi l'officina deve avere anche il meccanico bennis Questo lo dico per quelli che hanno detto No non funziona e merdate varie Non è così ragazzi Ok se non avete il meccanico bennis non funziona Quindi a questo punto ragazzi Io vado a mettere dentro in banca Tutti quanti i miei soldi Quelli che comunque ho in mano vedete Quindi mettiamo in banca i soldi E a questo punto siamo pronti per fare il glitch Ho voluto mettere in banca i soldi Giusto per farvi rendere conto Che effettivamente ci dà i soldi insomma Mi raccomando ragazzi Non abusate di questo glitch Perché comunque è un glitch di vendita Allora venite qui nell'officina Premendo freccia a destra Andate su opzioni vendi veicolo Selezionate ancora vendi veicolo Ma non dovete venderlo ragazzi Poi andate nel party Fate un partecipe a sessione E quando avete questo messaggio Doppia X velocemente Molto veloce Aspettate il secondo messaggio Aspettate che vi carichi sulle nubi E dopo di che ragazzi Accettate il secondo messaggio Vi porterà giù come state vedendo E avremo nuovamente l'auto che avevamo prima Perché comunque ci ha sparito sotto al culo A questo punto riprenderemo l'auto Rientreremo nella nostra officina E' semplicissimo ragazzi Una volta nell'officina andremo in Modifica auto Dovremo semplicemente andare in modifica auto Non dovremo fare nient'altro Ci fermiamo un pochino qui Andiamo in modifica auto Su quasi l'ultima modifica Senza comprarla ragazzi E poi dobbiamo semplicemente Tornare indietro C'è chi aspetta 10 secondi C'è chi aspetta 15 Indici Fate come cazzo che vale Vedete voi Torniamo indietro Usciamo dall'officina E come vedete in alto a destra Mi ha appena dato 904 mila E cazzi e mazzi Che dire ragazzi Usatelo Ma con parsimonia Detto questo Un saluto Al prossimo video Ciao belli Al prossimo video